A pochi metri dal santuario della Madonna della Roccia, sorge Belpasso, ridente cittadina alle pendici dell'Etna, in cui natura, tradizione e cultura si fondono in un gioco meraviglioso. Sei appassionato di sci di fondo? Non esitare, vieni a Belpasso, troverai strutture specializzate che renderanno unico e indimenticabile il tuo soggiorno. Andiamo avanti insieme all'Accademia di Belle Arti di Catania verso la costruzione di Belpasso, la città delle cento sculture. Investiamo in arte, investiamo in bellezza.